Care Italianglottine e cari Italianglottini, bentornati a un nuovo episodio della serie Canzoni in Italiano, la serie che vi insegna vocabolario e grammatica analizzando il significato di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. E a tale proposito vi ricordo che sul mio sito italianglott.com potrete trovare un foglio di lavoro con tanti esercizi di comprensione vocabolario e grammatica relativi alla canzone di oggi. E a proposito della canzone di oggi, visto che siamo a settembre e l'estate sta quasi per finire, ho scelto una canzone che si chiama proprio L'estate sta finendo, dei Rigueira, un gruppo che ha avuto un enorme successo negli anni Ottanta. I Rigueira erano due ragazzi di Torino, Stefano Righi e Stefano Rota, che diventarono famosi con i nomi d'arte Johnson Rigueira e Michael Rigueira per dare l'impressione di essere fratelli. Il loro nome deriva proprio dal cognome Righi con l'aggiunta di una tipica desinenza portoghese, Eira. Nacquero così i fratelli Rigueira. Alcune delle loro canzoni come Vamos alla Playa e Notengo di Nero del 1983 e L'estate sta finendo del 1985 sono diventati dei veri e propri tormentoni estivi. Credo di avervi già spiegato questa espressione in passato. Un tormentone estivo è una canzone, che esce appunto d'estate, che ha un motivo così orecchiabile ed ha quindi un tale successo che si sente ovunque, in tv, alla radio, nelle discoteche e quindi alla fine ti tormenta quasi perché non riesci più a toglierti quel motivo dalla testa. Ecco, i Rigueira hanno sfornato tanti tormentoni estivi. Vamos alla Playa è diventata famosa anche negli Stati Uniti e in Brasile e, come Notengo di Nero, era cantata in spagnolo, mentre a quei tempi avevano un particolare successo soprattutto canzoni pop in lingua inglese. L'estate sta finendo, che vedremo oggi, era invece cantata in italiano e, a differenza di quello che dice il titolo, in realtà uscì all'inizio dell'estate ed ebbe un grandissimo successo vincendo anche il Festival Bar, una competizione canora famosissima che è andata in onda ogni estate a partire dal 1964 fino al 2007. Ecco, la ventiduesima edizione, quella del 1985, è stata vinta proprio da Irigheira con L'estate sta finendo, una canzone con musica elettronica tipica degli anni Ottanta. Come tutti i tormentoni estivi, questa canzone ha un testo con un significato non particolarmente profondo. Parla principalmente di quella sensazione di malinconia e tristezza che proviamo quando finisce l'estate e finiscono quindi anche le vacanze e il divertimento. Ascoltiamo la prima strofa e, come sempre, vi ricordo che non so cantare. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora manchi tu. L'estate sta finendo e un anno se ne va. L'estate sta arrivando quasi alla fine, stanno per finire le vacanze e, come abbiamo detto, quando finiscono le vacanze e il divertimento proviamo una sensazione di tristezza, di malinconia, anche perché si chiude un altro capitolo e ci sembra quasi che un anno stia già per finire, è passato un altro anno. E i righeira dicono un anno se ne va. Se ne va è il presente del verbo pronominale andarsene, formato dal verbo andare più due particelle se e ne che cambiano il significato originale del verbo. Andare vuol dire muoversi da un punto all'altro o muoversi verso una certa direzione, ma andarsene vuol dire andare via, partire, allontanarsi dal posto in cui siamo. Quindi dà proprio questa sensazione di distacco dal posto in cui siamo. E in questo caso un anno se ne va vuol dire che un anno va via, passa e ovviamente non torna più. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Se un altro anno se ne va, se un altro anno passa, vuol dire che stiamo invecchiando. I righeira dicono sto diventando grande, quindi sto diventando adulto, non sono più un ragazzino come una volta. E aggiungono lo sai che non mi va. Cioè il fatto di stare invecchiando non mi piace. L'espressione non mi va può significare due cose. Può significare che in un certo momento non ho voglia o non ho il desiderio di qualcosa. Ad esempio, no, il gelato non mi va. Cioè in questo momento non ho il desiderio di mangiare il gelato. Non ho voglia di mangiare il gelato. Oppure può significare più in generale che qualcosa, una situazione, non ci piace. Ad esempio, non mi va che parli male di mia sorella. Cioè non mi piace che parli male di mia sorella. Mi infastidisce. E quindi in questo caso i righeira dicono non mi va che sto invecchiando. Non mi piace il fatto di stare invecchiando. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. Questa è una costruzione un po' particolare perché abbiamo la particella ne. Potremmo anche dire semplicemente in spiaggia non ci sono più ombrelloni. La particella ne viene utilizzata per parlare della quantità di qualcosa che è stato già nominato nel discorso per non ripetere quella stessa parola. Ad esempio posso dire quanti ombrelloni ci sono? Non ci sono ombrelloni. Ho ripetuto però la parola ombrelloni due volte. Allora posso più semplicemente dire quanti ombrelloni ci sono? Non ce ne sono. E quel ne indica di ombrelloni. Noi italiani quando ascoltiamo la particella ne l'associamo automaticamente alla preposizione di perché abbiamo in mente la quantità di qualcosa. Ecco perché nel verso dei righeira la parola ombrelloni ha la preposizione di davanti. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. Cioè la quantità di ombrelloni è zero. In ogni caso se andate su italianglot.com nel foglio di lavoro relativo a questa canzone troverete tanti esempi e diversi esercizi per utilizzare al meglio e correttamente la particella ne. È il solito rituale ma ora manchi tu. Quello che vediamo alla fine dell'estate, gli ombrelloni che spariscono, le spiagge che si svuotano, si ripete ogni anno. Quindi è quasi un rituale, una procedura che è sempre identica a se stessa. Ecco perché i righeira dicono è il solito rituale. Con la differenza che stavolta il protagonista assiste a questo rituale da solo. Mentre negli anni precedenti evidentemente era insieme alla sua compagna. Ma la relazione è finita perché dice ma ora manchi tu. Il verbo mancare vuol dire non esserci, essere assente. Quindi ora manchi tu vuol dire ora tu non ci sei, ora tu sei assente. Utilizziamo il verbo mancare anche per esprimere nostalgia e tristezza quando siamo lontani da qualcuno che amiamo, a cui vogliamo bene. In questo caso dobbiamo utilizzare il verbo mancare insieme ai pronomi indiretti. Mi, ti, gli eccetera. Quindi se dirò mi manchi, mi manchi tu, vuol dire che io sento la nostalgia di te. Gli manchi vuol dire che tu manchi a lui, lui sente la nostalgia di te e così via. Anche in questo caso sul foglio di lavoro che potrete scaricare da italianglott.com troverete tanti esempi e diversi esercizi. E passiamo al ritornello. La languidi bri, brividi come il ghiaccio bruciano quando sto con te, babababaciami siamo due satelliti in orbita sul mar. Languidi brividi. Languido può avere diversi significati. Può significare debole, senza forza, senza vitalità. Ad esempio, la languida luce di una candela, ovvero la luce debole, fiocca, poco intensa, di una candela. Può significare pieno di malinconia e desiderio magari per un amore lontano. Ad esempio, guardava fuori dalla finestra con uno sguardo languido, ovvero uno sguardo pieno di malinconia e di desiderio per una persona lontana o una persona che in quel momento non c'è. Oppure può significare sensuale, appassionato. Ad esempio, si sono dati un bacio languido, quindi un bacio pieno di passione, di sensualità. Non so in questo contesto quale di questi significati abbia la parola languido, ma probabilmente ha il significato pieno di passione e sensuale. Perché, dicono i Righiera, languidi brividi come il ghiaccio bruciano quando sto con te. Quindi lui ripensa al momento in cui stava insieme alla compagna e quando stava con lei provava dei languidi brividi. I brividi sono i tremori, quella sensazione che proviamo in cui i muscoli si contraggono velocemente, ad esempio per il freddo, ma anche per una forte emozione. Quindi lui prova questi languidi brividi, questi brividi forse appunto pieni di sensualità, di passione, quando sta con lei e questi languidi brividi bruciano come il ghiaccio. In effetti se mettiamo del ghiaccio a lungo sulla pelle abbiamo un po' la sensazione di bruciore, il ghiaccio brucia e ci provoca dei brividi. Bababa baciami, siamo due satelliti in orbita sul mar. Baciami, quindi dammi un bacio, e poi i Righiera paragonano la relazione del protagonista con l'ex compagna a due satelliti in orbita sul mar. Quindi sono come due satelliti che stanno girando intorno alla Terra, seguendo una certa orbita, una certa traiettoria, che passa al di sopra del mare. Ovviamente sempre in riferimento all'estate, le vacanze, eccetera eccetera. Ma in questo caso si parla di innamoramento e quando si è innamorati ci si sente un po' al di sopra di tutti. Il mondo quasi sparisce lontano da noi, sta al di sotto dei nostri piedi e tutto quasi non ci tange, non ci tocca, non ci riguarda. Ecco perché dice siamo come due satelliti in orbita sul mar. Vediamo la seconda strofa. E' tempo che i gabbiani arrivino in città. L'estate sta finendo, lo sai che non mi va. Io sono ancora solo, non è una novità. Tu hai già chi ti consola, a me chi penserà. È tempo che i gabbiani arrivino in città. L'espressione è tempo che, seguita dal congiuntivo del verbo, in questo caso il congiuntivo del verbo arrivare, arrivino, esprime un desiderio accompagnato da una certa impazienza. Ad esempio possiamo dire, usando sia l'espressione è tempo che, che l'espressione è ora che, è tempo che tu prenda una decisione o è ora che tu prenda una decisione. Prenda è il congiuntivo presente del verbo prendere, quindi come abbiamo detto esprime questa espressione un desiderio e una certa impazienza. La persona deve prendere una decisione ma non lo fa. Passa il tempo, non lo fa. Quindi noi esprimiamo questa impazienza e questo desiderio e gli diciamo è tempo che tu prenda una decisione. È arrivato il momento che tu lo faccia, finalmente. E nella canzone di Rigueira abbiamo è tempo che i gabbiani arrivino in città. Quindi è finita la stagione balneare, la stagione in cui si va in spiaggia, dove evidentemente i gabbiani stanno lì in attesa del cibo lasciato dai bagnanti, dai rifiuti lasciati dai bagnanti per mangiare qualcosa. E quando finisce la stagione balneare e le spiagge si svuotano, anche i gabbiani vanno in città. E quindi finita la stagione estiva è tempo che i gabbiani arrivino in città. L'estate sta finendo, lo sai che non mi va. Abbiamo già visto cosa significa questa espressione. Io sono ancora solo non è una novità. Da questa frase comprendiamo che forse la relazione è finita già da un po' di tempo perché il protagonista dice io sono ancora solo. È da parecchio tempo che è solo e questa non è una novità. Questa espressione vuol dire che qualcosa non è nuovo, che qualcosa non succede per la prima volta, che già siamo abituati a vedere questa stessa scena. E la scena in cui lui è solo alla fine dell'estate. Già l'abbiamo vista. Già è successa precedentemente. Non è una novità. Tu hai già chi ti consola. A me chi penserà. Qui scopriamo che l'ex ragazza ha già una relazione, sta insieme a qualcun altro, che la consola. Le dà conforto in questo momento di tristezza, quello in cui l'estate finisce, tutti proviamo malinconia, perché finiscono le vacanze, perché un altro anno sta passando. Lui invece, il protagonista, è ancora solo e quindi dice a me chi penserà. Il verbo pensare in questo caso non vuol dire avere dei pensieri, cioè avere delle immagini nella nostra testa della persona a cui appunto stiamo pensando, ma ha il significato di occuparsi di qualcuno, di prendersi cura di qualcuno. Normalmente ha questo significato il verbo pronominale pensarci, formato da pensare più la particella ci. Quindi il significato originale di pensare, che è quello appunto di avere dei pensieri che ci passano attraverso la nostra mente, cambia e diventa, insieme alla particella C, quello di occuparsi di qualcuno, di prendersi cura di qualcuno. Ed è in questo senso che il protagonista si chiede a me chi penserà, cioè chi si occuperà di me, chi si prenderà cura di me, chi mi darà conforto in questo momento di tristezza. E vediamo la terza e ultima strofa. L'estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va, una fotografia è tutto quel che ho, ma stanne pur sicura, io non ti scorderò. Qui troviamo due nuovi versi. Una fotografia è tutto quel che ho. Tutto quello che mi è rimasto di te da quando ci siamo lasciati è una fotografia, ma anche se ho solo una fotografia io non ti scorderò. Ovvero io non ti dimenticherò. Il verbo scordare e dimenticare hanno lo stesso significato. E poi abbiamo ma stanne pur sicura del fatto che io non ti scorderò. E abbiamo ancora una volta la particella NE. Come abbiamo detto prima, la particella NE può sostituire delle quantità e anche delle espressioni intere che iniziano con la preposizione di. In questo caso abbiamo l'espressione essere sicuro di qualcosa. E allora quel di qualcosa possiamo sostituirlo con la particella NE. Vi ho detto prima, stai pur sicura del fatto che non ti scorderò. Questo del fatto che non ti scorderò lo possiamo sostituire con NE e diremo stanne sicura. Cioè sii certa, sii sicura del fatto che non ti scorderò. E quando uniamo un imperativo, quindi il modo che utilizziamo per dare ordini, per esortare qualcuno a fare qualcosa, con un pronome o una particella, come in questo caso stiamo unendo l'imperativo sta o stai con la particella NE, raddoppiamo la prima lettera della particella e quindi invece di dire stane diremo stanne. Un'ultima cosa, qui abbiamo anche pur o pure, che è una parola che si aggiunge dopo un imperativo, quindi appunto il modo che usiamo per esortare qualcuno a fare qualcosa, per dare un senso di non esitare a farlo, non sentirti in imbarazzo, fallo pure, non farti problemi a fare questa cosa. Quindi stanne pur sicura vuol dire non esitare, ad essere sicura del fatto che io non ti dimenticherò. Ed è tutto per oggi. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e non dimenticate di iscrivervi al canale. E ricordate ancora una volta che potrete migliorare tantissimo il vostro italiano anche facendo gli esercizi relativi a questo video. Insieme al testo della canzone troverete esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica su italianglot.com. Ciao!